12 ottobre 2021, messaggio di Nostra Signora. Cari figli, sono la madre regina del Brasile. Vi chiedo di mantenere accesa la fiamma della vostra fede. Non perdetevi d'animo. La vostra vittoria nella forza della preghiera e nella fedeltà al Vangelo del mio Gesù. Non permettete che il demonio rubi la vostra pace e vi allontani dal cammino che vi ho indicato. Aprite i vostri cuori e assumete con coraggio la missione che il Signore vi ha affidato. Camminate per un futuro di grandi persecuzioni, ma non tiratevi indietro. Chi ha con il Signore mai sperimenterà il peso della sconfitta. Curate la vostra vita spirituale. Allontanatevi dal mondo e vivete rivolti al Paradiso per il quale unicamente siete stati creati. Datemi le vostre mani e io vi condurrò alla vittoria. Nella grande e finale tribolazione, i miei devoti saranno protetti. Coraggio! Io vi amo e sarò sempre con voi. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen! Rimanete nella pace! Rimanete nella pace!